Il primo vino rosato imbottigliato in Italia, il 43, diventa anche uno spumante, diciamolo così, a metodo classico. È come quelli francesi, ma da Negramaro assolutamente. Nel Saletto, ti ridai l'appuntamento il giorno 16? 16 giugno, Salice Salentino, museo Leone De Castris, quindi appuntamento lì. Ma io voglio fare anche un appello, ridateci il fritto di paranza locale. Vogliamo il fritto di paranza locale, vogliamo la paranza, la paranza e la paranza. Allora, Anna Maria, nel frattempo tu stai ultimando la cottura di questa salsa di ciliegie, quindi 500 grammi di ciliegie denocciolate, 150 grammi di zucchero e alla fine il succo di colore rosso e anche un moscato di prani che non ci va male. Allora, che dire, buona domenica, io ringrazio i miei sponsor che sono naturalmente Sara F. Butica nel Cattaro e Antonio D'Erasmo. Grazie ancora per essere stati qui con noi oggi, buon appetito e buona domenica. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Grazie Anna Maria! Grazie a tutti! E possiamo attenzione? Eh sì, speriamo, è pronta! Ciao! Grazie a tutti.